La pandemia che stiamo attraversando ha messo in luce che la scienza non è in grado di dare delle certezze che molti vorrebbero o non è in grado di rispondere velocemente a tutte le domande. Ma di che beneficio ci può essere allora la scienza anche in un momento di grande incertezza come questo? Mi ha aiutato a mantenere la serenità, a non perdere la calma. Mi ha aiutato anche a mantenere l'umiltà riconoscendo il valore del lavoro di persone che con competenza e professionalità stanno contribuendo ad aumentare le nostre conoscenze seguendo il metodo scientifico che, seppur non perfetto, è il modo migliore che abbiamo per indagare la natura che ci circonda. Vedere come lavora la scienza mi ha ricordato anche che le opinioni personali contano poco e che dobbiamo sempre verificare quello che ascoltiamo. Mi sono innamorato della scienza tantissimo tempo fa, quando ho guardato dentro un microscopio per la prima volta e ogni giorno continuo a essere stupito per le cose nuove che riusciamo a scoprire su noi stessi e sul mondo che ci circonda.